A Divrea il liceo Gramsci rinverdisce la sua tradizione, per il secondo anno gli alunni diventano per un giorno insegnanti. Sì, nella tradizione del liceo Gramsci che è un liceo scientifico da sempre, è nato negli anni 70 come liceo scientifico ed è altamente specializzato in quello che è l'insegnamento e la diffusione della cultura scientifica. Tanto per citare un esempio, i nostri docenti hanno in questi ultimi due anni fatto una formazione al CERN di Ginevra di una settimana ciascuno, quindi riversano poi all'interno dell'insegnamento delle scienze proprio quelle che sono le ultime novità in campo scientifico apprese appunto al CERN di Ginevra. È il secondo anno che c'è questa manifestazione sulle ali di Icaro con i ragazzi del Gramsci che vede proprio i protagonisti e gli studenti. Gli studenti che in qualche modo si pongono come insegnanti a loro volta nei confronti di studenti più piccoli e che hanno modo di mostrare anche quello che hanno imparato durante l'anno nell'ambito delle scienze e della fisica. Ha riscosso molto successo sia per quanto riguarda i ragazzini più piccoli e i docenti delle scuole inferiori sia per quanto riguarda i nostri studenti che fanno a gara per essere scelti in questa manifestazione. Quindi sta diventando veramente anche una sorta di attività di cura dell'eccellenza. E poi per il territorio il liceo Gramsci si pone in uno spazio che è uno spazio importante perché non è solo centro di educazione, luogo di istruzione ma diventa luogo di condivisione. Assolutamente, noi ci stiamo aprendo sempre di più al territorio perché riteniamo che una scuola deve avere dei contatti molto molto stretti con quelle che sono le realtà territoriali. Per esempio sta partendo, ormai è avviato il progetto L'Albero Sonoro in collaborazione con il gruppo culturale Miscela e con i giovani imprenditori del Canavese che è volto alla realizzazione di un'opera d'arte interattiva che dovrà essere poi proprio concretizzata e realizzata dal gruppo delle aziende Canavisia che si sono occupate della panchina intelligente. Quindi proprio in quest'ottica noi stiamo andando nel cercare di stringere sempre più, in maniera sempre più forte, dei rapporti con la realtà territoriale, sia quella produttiva che quella a maggior ragione culturale. Che cosa si farà oggi? Oggi abbiamo una serie di percorsi su esperimenti scientifici a cura dei ragazzi delle varie classi dell'Iceo Gramsci. In particolare collaborano le classi della terza C, del liceo scientifico di ordinamento e poi la maggior parte dei ragazzi sono delle classi delle scienze applicate, sempre del liceo scientifico Gramsci e sono i ragazzi della quarta E, quarta F, quinta C sempre di ordinamento, seconda F, prima F e poi anche la quinta A di ordinamento. Praticamente i ragazzi organizzano loro l'esperimento e insegnano ai ragazzi più piccoli delle scuole medie. È un'attività che è didatticamente molto valida perché ai nostri ragazzi diamo una forte motivazione a informarsi sulla conoscenza scientifica e i ragazzi più piccoli invece partecipano molto volentieri perché non c'è molta differenza di età fra loro e questi ragazzi. Questa è la seconda edizione e l'entusiasmo con cui i nostri ragazzi hanno partecipato e anche la grossa partecipazione della scuola media ci ha fatto pensare di riproporre anche quest'anno questa attività. Abbiamo anche intenzione di potenziare questo tipo di lavoro e a maggio organizzeremo ancora un'altra giornata aperta dei laboratori della scuola. Abbiamo anche una collaborazione con gli astrofili del gruppo Astrofili del Canavese che è qui per farci osservare il sole. Oggi non si può osservare ma con internet è possibile osservare in diretta tramite il telescopio spaziale anche il sole. Quindi la tecnologia ci permette di aggirare gli ostacoli che sono presentati dalla situazione meteorologica. Secondo anno sulle ali di Icaro ma questa idea com'è nata? Allora è nata perché noi abbiamo alle spalle una grande tradizione di sperimentazione non solo sul piano didattico ma anche proprio sul modo nostro di fare scuola. E quindi non vogliamo assolutamente che venga disperso questo patrimonio che abbiamo accumulato in più di 30 anni di attività e quindi abbiamo cercato di continuare questa tradizione e farla continuare anche nonostante i programmi ministeriali ci limitino fortemente oramai perché lo spazio orario non è più quello di un tempo però noi vogliamo lo stesso che è questa cultura scientifica per manga e quindi abbiamo organizzato delle cose extra orario. In più riteniamo che proprio allenare i ragazzi a esporre agli altri li aiuti molto sul piano personale e anche sul piano relazionale. E quindi poi quando c'è in gioco la possibilità di insegnare ad altri più piccoli subentra un po' lo spirito del fratello maggiore e quindi diventa anche una cosa molto carina. Noi l'anno scorso abbiamo avuto una sola classe di elementari, quest'anno ne avremo due e devo dire che sono stati i momenti più piacevoli e più appaganti per i ragazzi perché ovviamente i più piccolini sono molto entusiasti si lasciano affascinare facilmente anche perché noi proponiamo una didattica che si avvicina molto alle persone perché ci sono anche delle forme di gioco per proporre concetti rigorosi ma anche sul piano del gioco e quindi ecco che i ragazzi si divertono. Il nostro credo è che si debba sempre apprendere però divertendosi e quindi deve essere un piacere apprendere.